La lingua napoletana, lo sappiamo benissimo, si è arricchita nell'ultimo millennio di inflessioni che vengono da tutte le dominazioni che hanno dominato Napoli nell'ultimo millennio. Se andiamo a Piazza per il Biscito, sulla facciata del Palazzo Reale, troveremo gli otto capostipiti delle otto dinastie che hanno governato il regno di Napoli. Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli, Francesi, ma ci sono stati anche gli Austriaci e infine di nuovo Borbone e poi in fuori di nuovo Savoia. Tutte queste dominazioni hanno lasciato sulla lingua napoletana delle tracce straordinarie. Lo sappiamo benissimo quanti spagnolismi abbiamo nella lingua napoletana, omosale che è da mesa, oposone che è da viso, quanti francesismi, omustace che è un baffo, a buat che è il barattolo, ma ci sono delle novità, delle sorprese carine. Per spiegarvi quanto le lingue straniere abbiano influenzato la lingua napoletana, ci sono tre secondi da un film di Totò, che voi conoscete benissimo, che è Miserie e nobiltà, un film del 1954 che è tratto da una farsa di scarpetta. Nella scena madre, che tutti i napoletani conoscono a menadito, Pasquale, il fotografo, va vicino a Felice Chosciamucca e dice «Foli, vado a lo charcutier giù alla cantonata» e l'altro gli risponde «o charcutier, lo pozzegagnolo, lo casa d'oggi». Bene, in questi tre secondi di copione c'è tutta la ricchezza della lingua napoletana. Il primo termine usato è charcutier, carna cotta, carna cuttara, ma fin dal 1700 a Napoli è di modo a parlare francese, «boulangerie», «charcuterie», «cofferto», «alette» e anche charcutier, per cui il «salumiere», uguale a una cuttara, diventa charcutier, perché è nobile parlare francese. Quindi la prima parola è un francesismo. Alla cantonata, o canton, l'angolo chiuso della piazza, lo charcutier alla cantonata. Il canton è un catalanismo, il cantone è l'angolo chiuso della piazza. Quindi due parole, due dominazioni. La terza parola è «upozcagnolo», «pizzicagnolo» è ancora uno spagnolismo, deriva da «pizzcar». Pizzicare è questa abitudine che hanno gli spagnoli di mangiare questi bocconcini pronti, oggi li chiameremo le tapas. Quindi tre parole, tre dominazioni. Vai dallo charcutier alla cantonata, «upozcagnolo» o «casaduoglio», l'ultimo termine, un altro sinonimo di salumiere. Ma che accidenti è sto, «casaduoglio». Oggi le moderne generazioni ignorano il termine in quanto è desueto. Ma all'indomani del secondo dopoguerra Mario Mattori lo mette nella sceneggiatura di Totò. Quindi evidentemente era un termine compreso almeno una grande parte di popolazione. Sapete perché? Perché nel secondo dopoguerra, quando arrivano gli americani che hanno il dollaro, i salumieri a Napoli scriveranno, per attirare la clientela americana, «cheese and oil», formaggio e olio, che per gli americani diventerà «casaduoglio». Quindi addirittura potremmo definire il termine un americanismo. La radice è sempre quella latina, «caseum» e «toleum», ma il termine del dopoguerra diventa diffuso. Quindi non solo spagnolismi, francesismi, ma addirittura americanismi. Ma anche la lingua tedesca ha lasciato qualche traccia nella lingua napoletana. Oggi possiamo dire «spruch», da «spruch», che è un rametto. Possiamo dire «spass», o «spass» in tedesco significa esattamente divertimento. Ma c'è una parola meravigliosa, che è il peto silenzioso, che in napoletano si dice «loffa». Ebbene deriva dal tedesco «lüft», che significa «aria», d'altronde «lufftanza» è la compagnia dell'aria, e il napoletano, quindi abbiamo usato il termine «loffa» perché in fondo di sola aria si tratta.